Questo intervento che credo sia una prima dimostrazione applicativa dopo l'intervento dicevo della professoressa Rettini perché vediamo come noi nel nostro caso appenino settentrionale abbiamo cercato di tradurre una serie di affermazioni anche contenute nelle linee guida e come abbiamo dato risposta a certe domande assumendosene ovviamente ogni responsabilità e non avendo alcun riferimento nazionale al di là dell'ottimo lavoro sulle linee guida ma che come dire è un primo step come è stato detto anche molte volte stamani mattina per poi farne molti altri dopo che sono ancora come dire in attesa di alcune risposte e i punti interrogativi e le riflessioni della dottoressa Rettini prima di me lo hanno credo chiaramente fatto emergere. Quanto sia importante l'analisi economica all'interno dei piani di gestione? Silvio Carta non lo vedo ma quando Silvio Carta ha affermato prima il piano di gestione è un business plan, l'ha detto quasi sotto voce, no è un business plan, il piano di gestione è proprio questo, non è una delle altre tante pianificazioni, è la pianificazione, è il master plan ai sensi della direttiva 2060 che noi consegniamo per il governo della risorsa idrica a 360 gradi ma soprattutto è una pianificazione che a differenza delle altre al di là della gerarchia delle pianificazioni dove il PDG è sostanzialmente la macro pianificazione di riferimento che poi contiene tutte le altre pianificazioni di settore, tanto per essere chiari, non è niente al posto di, ma è qualcosa che le raccoglie e fa un salto di qualità in termini contenutistici che è dato soprattutto da questo elemento, dall'analisi economica, l'analisi economica che è richiamata nella direttiva e sono citati a velocemente alcuni articoli, poi ci sarebbero tutti gli allegati ma non bastava la slide, perché l'analisi economica è un obiettivo, nel senso che va fatta l'analisi economica per la ricostruzione del quadro conoscitivo iniziale, il famoso contesto socio-economico di cui si parlava, trova fondamento nell'analisi economica, articolo 5, ma non è solamente un obiettivo, l'analisi economica è obiettivo e strumento dei vari step della pianificazione, articolo 11, perché la combinazione delle misure idonee a raggiungere l'obiettivo di qualità, il famoso 2015 posto cui sempre dobbiamo tendere è basato, dice l'articolo 11, si fa sulla base dell'analisi economica, non si fa sulla base di altri tipi di valutazione, quindi mi verrebbe ancora da dire è un business plan, ma certamente è un business plan, quindi il piano di gestione proprio in quest'ottica, io c'è sotto come dire pianificazione, è funzionale a che cosa? Certo alla ricostruzione del quadro conoscitivo, ma soprattutto alla individuazione del programma di misure che consentono di raggiungere gli obiettivi, perché è ricognizione, è individuazione, quello vedremo nelle slide successive velocemente del gap che mi distanzia dallo stato di qualità buono, è individuazione quindi dell'obiettivo di qualità, ma delle misure che mi servono per raggiungere quello, per raggiungere l'obiettivo, laddove non ce la faccia, non a caso, questione delle exemptions e scelta delle exemptions e lo vedremo. Quindi siamo in una pianificazione strategica, siamo in una pianificazione strategica, quindi dicevo i vari step, la successione, che parte dalla ricognizione della situazione di partenza e io ho fatto qui, l'ha fatto vedere stamattina Marina, ma credo sia importante, perché questo è il percorso logico seguito a livello comunitario, codificato si può dire, nelle linee guida, anche 1 e 2, poi ripreso sostanzialmente alla base della guida che ora uscirà sugli airfassetment e contenuto nelle nostre linee guida nazionali, che sostanzialmente fa un parallelismo nel percorso logico, come noi abbiamo ragionato e come del resto poi è codificato all'interno di questa rappresentazione. Ricognizione della situazione di partenza? Certo, non a caso la prima domanda è, esiste una pressione significativa sul sistema idrico? Valutazione dell'impatto sul sistema idrico. Se non si conosce lo stato di partenza e poi vedremo come noi giudichiamo la valutazione dello stato di partenza, come si valuta la situazione dello stato di partenza, perché ci sono varie metodologie, anche qui ce ne sono tanti, hanno margini di incertezza e anche sono più o meno semplici, ma hanno altrettante margini di incertezza più o meno alte, esiste anche una combinazione delle metodologie a cui noi abbiamo fatto ricorso, in ogni caso come dire, ricognizione della situazione di partenza. Definizione degli obiettivi ambientali, stima del gap tra stato attuale e obiettivo, altrimenti di cosa parliamo? Come dire, una volta conosciuto lo stato di partenza, non a caso, nella ricostruzione, nel percorso logico, individuato e codificato a livello comunitario, gli altri passaggi delle frezzette che non vi sto a dire sono proprio questi, riassumibili nella definizione delle obiettive ambientali, chiedersi se qual è il gap, ma soprattutto se sono in atto misure per prevenire, evitare, ridurre e compensare il danno, perché vedremo che la definizione degli obiettivi ambientali e la valutazione del gap deve essere fatta consapevoli delle misure cosiddette ongoing, che sono quelle finanziate o programmate. Terzo, ovviamente, individuazione delle strategie, una volta valutato il gap si deve fare un programma di misure, è il POM, il COAL, diciamo, di questo piano di gestione, facendo riferimento alle ongoing in attuazione o finanziate, le vedremo poi con la copertura del costo, oppure misure necessarie da finanziare per colmare il gap se quelle in corso non ci sono e non a caso, stesso parallelismo all'iverso di percorso logico, con la stima economica del danno, ulteriori misure per raggiungere gli obiettivi, ridurre o compensare il danno. E infine la sostenibilità, perché tutto ciò non si tiene insieme se non c'è il passaggio, come dire, nell'individuazione del programma di misure e anche nella scelta eventualmente del ricorso alle exemptions di un'analisi economica intesa come analisi di sostenibilità a 360 gradi. Un'analisi di sostenibilità, abbiamo sentito il dettaglio economico finanziario, ma aggiungo ambientale, un'analisi di sostenibilità sociale che in effetti, come dire, come vedrete, poi si accompagna con una valutazione del costo, dell'efficacia delle misure. Sostenibilità significa, come dire, una valutazione di costi-benefici e quindi una stima anche poi dell'efficacia e poi dell'efficienza e quindi della sostenibilità delle misure per poi ricorrere o meno alle exemptions che ci sono permette. Quindi vedrete come sostanzialmente poi alla fine dire il percorso è molto molto logico, talmente logico forse che a livello comunitario hanno seguito la stessa strada. Insomma, quindi è ovvio che ci siamo ispirati a quello che c'erano le famose eco 1 e eco 2, poi riprende, ma mi viene anche da dire che non può che essere così, non esiste altra strada. Metodologia quindi che noi abbiamo seguito e, lo voglio ricordare, approvata formalmente in comitato istituzionale nel 2010, quindi la nostra impostazione è stata in qualche modo approvata, no? In qualche modo, più che in qualche modo abbiamo la delibera di comitato istituzionale e poi successivamente con il DPCM ovviamente del 2013 ha complessivamente ovviamente approvato il piano di gestione, ma in particolare nelle varie parti ovviamente è evidenziata questa metodologia che noi abbiamo seguito e prima testato su un caso sostanzialmente che è un sottobassino dell'Arno ed ora è speso. Siamo, apro una parentesi perché, ma in che fase siamo adesso? Insomma, siamo in una fase molto delicata perché questa è la fase di consultazione, la famosa fase di pubblicità e consultazione del piano perché entro dicembre del 2015 noi consegniamo a Bruxelles l'aggiornamento del piano di gestione, consegniamo, si parla di secondo ciclo di pianificazione, ma visto che siamo in casa e molto fra addetti ai lavori, diciamo un po' la verità, è il vero primo piano di gestione, anche perché l'Europa, il piano di gestione pubblicato nel marzo del 2012, approvato qui a febbraio del 2009, dopo che la legge 13 all'inizio del 2009 ci aveva dato alle autorità di vaccino nazionali il compito di redigere nelle more della, come dire, istituzione dell'autorità di distretto che ancora è nelle more, questo compito è evidente, come dire, in 7-8 mesi non lo abbiamo potuto fare come sistema paese quello che la direttiva chiede di fare in 10 anni, perché come dire al 2000, al 2009 c'era la consegna del primo piano e poi l'aggiornamento ogni 6 anni che per l'appunto cade nel 2015, quindi per noi questo è il primo vero piano di gestione e quindi ci misuriamo anche con che cosa? Ci misuriamo ovviamente con una serie di documenti che sono venuti fuori da Bruxelles a corredo dell'implementazione della direttiva, quindi documenti di accompagnamento che sono ovviamente stati elaborati, redatti come sempre dalla Commissione, le comunicazioni della Commissione, le risultanze dei gruppi di lavoro, i paper comunitari di dettaglio su water accounting, sul water pricing e anche ovviamente su alcuni aspetti della direttiva che possa, la valutazione dei piani di gestione nella comunicazione del 2012 che ha formalizzato in modo molto chiaro qual erano gli aspetti critici, deficitari dei nostri piani di gestione, con una bella fotografia veritiera della situazione in Italia e che poi lo troviamo, abbiamo trovato anche nel bilaterale, quindi ci siamo trovati nel bilaterale ad avere formalizzati in oltre 50 punti, dove è stato stigmatizzato, 79 punti, è vero? Ottimità dove è stato stigmatizzato, perché la parte agricoltura avrà chiudato tutti, perché dove è stato stigmatizzato in modo molto chiaro quali sono le nostre gravi lacune a cui dobbiamo porre rimedio in vista del 2015. Allora le ho riassunte brevemente qui, le ho riassunte perché essenzialmente noi abbiamo lavorato nel nostro aggiornamento, o meglio dire nel vero piano che stiamo, abbiamo fatto e che stiamo implementando adesso, focalizzando proprio su questi tre aspetti. Programma di misure, dice l'Europa nel verbale del 24-9 dopo il bilaterale e lo dice anche, scusatemi se vado un po' di là, nel Neopai, lo sta adesso, formalizzato al nostro Paese sulla direttiva 2060 e non ho la slide ma mi verrebbe di dire, e lo dice anche nella quarta valutazione dei piani di gestione che è pubblicata a marzo del 2015, tanto dice la stessa cosa, quindi basta leggere una volta, quindi significa che ancora un po' di miglioramenti li dobbiamo fare, dice dovete assolutamente garantire per il prossimo piano di gestione un miglior legame, io direi un legame vero e proprio fra pressioni e misure, perché altrimenti, non solo in agricoltura ma per tutti i settori, perché le misure, il programma di misure devono essere selezionate sulla base di informazioni sulle pressioni e sul vero stato del corpo idrico, quindi deve essere basata la selezione delle misure, continua la quarta valutazione dei piani di gestione, su una cost effective analisi, su un'analisi cost efficace, quindi prima, come dire, aspetto fondamentale, nell'opilot sostanzialmente la stessa cosa, la valutazione della commissione sui PDG italiani ha rilevato una mancanza di collegamento tra analisi delle pressioni e programma di misure, la commissione chiama l'esperienza, ora qui c'è un, così consentitemelo, come dire, un flash sul distretto dell'Apenino settentrionale, perché sostanzialmente noi abbiamo formalizzato al di là della metodologia di analisi economica, abbiamo portato in occasione di bilaterale e poi ovviamente comunicato nelle sedi opportune un'esperienza che noi abbiamo costruito come sistema direi di appennino settentrionale, perché poi, che è quello di un sistema, un dattabeggio preferenziato, con delle chiavi di accesso, delle web, pagine web dinamiche comuni ovviamente e con possibilità di implementazione per tutte le regioni del nostro distretto, quindi Toscana, Liguria, una parte dell'Emilia Romagna e regione Marche, dove sostanzialmente, lo farò vedere poi in alcuni aspetti, perché è stato il sistema che ci ha consentito, al nostro modo di vedere, di rispondere a queste criticità, poi bene o male, ovviamente, come dire, questo dipende dai dati, dipende forse anche dalla nostra capacità, però è il sistema, il cosiddetto cruscotto di controllo che noi abbiamo, come dire, portato in occasione di bilaterale a Bruxelles, su cui la Commissione Antenello Pilot ha stigmatizzato, come dire, la bontà e l'utilità, se non altro, dello strumento. Quindi, identificazione del programma di misure, torno indietro, analisi economica, altro aspetto importante, quindi abbiamo parlato inutile ridica, quindi full cost recovery o comunque cost recovery, importante includere la copertura totale del costo del servizio, di tutti i servizi di impiego dell'acqua, gli usi, come diceva molto bene Marina, questa riflessione su utilizzo e usi che è stata fatta in occasione del gruppo di lavoro e ovviamente obiettivi e chiara giustificazione dell'exemption. Guardate, questa cosa dell'exemption, della deroga e della proroga, poi lo vedremo basata sull'articolo 5, un aspetto molto delicato, perché come dice l'Europa, come dice anche, ci ricorda anche nel Leofaio e come ci ricorda, ci aveva già detto nella terza valutazione dei PDG e ci torna pesantemente nella quarta valutazione dei PDG, ci dice non è possibile ricorre a esenzioni o a deroghe o a proroghe, ovvero a proroga temporale o a obiettivo meno stringente, senza una solida motivazione e giustificazione basata sull'analisi economica, alias analisi di sostenibilità, poi vedremo il ragionamento che noi abbiamo messo in piedi. Certo è che così come abbiamo indicato le proroghe e le deroghe non andava bene, quindi occorre fare un grande sforzo al nostro modo di vedere in quest'ottica. E allora uno sforzo che ovviamente parte, riprendo e cerco di esplodere i vari passaggi che ho richiamato all'inizio, la ricognizione della situazione di partenza, questi sono tutti i dati di base che le autorità di bacino nazionale, l'autorità di distretto, barra l'autorità di distretto, le regioni ovviamente insieme, con un approccio bottom up, in questo caso a livello di coordinamento, siamo riusciti a mettere insieme, abbiamo valorizzato dove era possibile avere per la ricognizione della situazione di partenza i dati aggiuntivi, dati che voglio dire non sono chiesti dalla direttiva, quindi l'aggiornamento sullo stato di attuazione delle misure, ad esempio che richiamava stamattina il presidente di AIT, ma all'interno della regione toscana noi abbiamo fatto molto match insieme all'autorità d'ambito regionale e quindi abbiamo un sistema di banca dati comuni che abbiamo deciso, visto che era presente, di mettere a sistema e di utilizzare. Non è presente in tutti i territori, ma laddove esistono punte di eccellenza in termini di dati, è bene assolutamente utilizzarle perché sono best practice che in qualche modo possono servire, credo, al nostro Paese anche per dire, guardate, qualche volta va anche bene la situazione. Il bilancio idrico per noi è fondamentale perché l'autorità di passione dell'Arno, ma le altre regioni anche che hanno fatto il bilancio, che hanno a disposizione i dati sul bilancio, è una misura, poi lo vedremo, a parte di quelle misure quantitative, misure poi di regolazione, lo vedremo a funzionare proprio al raggiungimento degli obiettivi di qualità, per cui laddove possiamo mettere in campo dati aggiornati, ovviamente, non fotografie sbiadite, ma aggiornate della situazione da un punto di vista quantitativo, della disponibilità intesa proprio nel senso del testo unico del 33, riviste corrette che ci citava Marina stamattina, reinterpretata alla luce dei nostri giorni, ma con quella filosofia lì noi l'abbiamo messo in campo, ai dati di dettaglio sul monitoraggio che molte arpa regionali hanno. Quindi, partenza dallo Stato, cioè la definizione dello Stato, analisi dello Stato ecologico e chimico questo è un estratto di quel database di cui già ho referenziato, a cui facevo riferimento prima è evidente che nella valutazione, evidente no, ma nella valutazione, come dire, anche qui dello Stato lo vedete, questo è un esempio di corpo idrico ecologico, ovviamente chimico, tutte le volte evidenziato valutare, come dire, lo Stato ambientale, chimico ecologico, superficiale e chimico quantitativo per i sotterrani ovviamente si cerca di dire che cosa, non solamente che non è buono, è scarso, eccetera ma di approfondire le cause del non buono, prendendo in considerazione il quadro delle pressioni che, se disponibili poi anche altre informazioni di dettaglio derivanti dal monitoraggio che gravano appunto su quel determinato corpo idrico, perché il gap che poi ci separa sostanzialmente dal raggiungimento dello Stato buono, cioè quella forbice tra Stato attuale e obiettivo di qualità buono posto come, come dire, obiettivo da raggiungere inevitabilmente e poi giustificare se non si raggiunge come mai, come diceva approccio, come dire, cito ancora una volta approccio carta il gap, anche qui la stima si può fare, come dire, in molti modi abbiamo indicato qui un ordine crescente di complessità, si può fare sulla base dello Stato lo richiamavo prima, si può fare sulla base dello Stato ma anche considerando, facendo una scala di priorità delle pressioni che gravano che non ha, per poi individuare la misura esattamente che fronteggia quelle pressioni, quindi qual è la causa che mi scatena quello che è derivante dall'agricoltura piuttosto per massimi sistemi dall'industriale oppure dal civile, perché altrimenti si dice come questa mattina si rischia di arrivare a fare interventi sotto i 2000 abitanti equivalenti per quanto importanti e, come dire, che andranno fatti, ma ugualmente su alcuni corpi idrici, nonostante quegli interventi sulla depurazione, lo Stato rimane lo stesso perché è evidente che la pressione non è causata dal civile. E allora la domanda è, siamo proprio sicuri che è questo che vuole, come dire, la direttiva 2016 quando parla di piano di gestione, cioè una sorta di esercizio di stile oppure anche un ripensamento rispetto al stringente obiettivo di alcune direttive che avevano un approccio molto diverso rispetto a quello che dà la direttiva, ma questa è anche una domanda filosofica, anche, insomma, a mio modo di vedere occorrerebbe fare, anche perché quando il budget è a disposizione, visto che si parla di analisi economica, è quello, è dato e io con quello devo fare, insomma, la scelta delle priorità è fondamentale, altrimenti, come dire, si fa una sorta di elenco delle cose da fare ma senza bisogno, allora il pianificatore in quel caso poco non serve, insomma, si può anche risparmiare sui tanti pianificatori che ci sono nel nostro Paese. Quindi, terzo ordine di complessità, ma stato, pressioni e fattori quantitativi legati alle pressioni, perché è espresso, ad esempio, come carico inquinante in abitanti equivalenti. Ugualmente una stima del gap che può essere, anzi ugualmente, così come, come dire, prima valutazione, adesso in che modo posso esprimere il gap? Come percentuale, quindi prendendo uno 0% quando il gap non esiste. Qualità buona, non ci sono problemi, 100% massima distanza tra lo stato attuale e lo stato obiettivo, oppure, meglio ancora, espressi in potenziale carico inquinante, per esempio, milioni di metri cubi all'anno e qui quest'unità di misura che noi abbiamo scelto come, in termini di abitanti equivalenti, con gli opportuni fattori di conversione che la riportino a scala industriale, sui tarifi industriali, agricoli e zootecnici, per noi è già, come dire, una valutazione che dà elementi aggiuntivi rispetto a una percentuale secca del 20% di distanza che mi dice, sì, che è distante e mancano 20 punti, ma non mi dice a cosa sono riferiti, in termini di abitanti equivalenti cosa significa, non mi indica niente sulle pressioni. E ancora una ripartizione, dicevo, fondamentale, qualitativa e quantitativa tra i principali settori che è utile per le varie valutazioni, perché addebitare, imputare la causa di quella pressione a un utilizzo piuttosto che a un altro, lo vedete, è fondamentale, perché è fondamentale non soltanto in questo momento, come dire, di obiettivo ambientale stima del gap, ma è fondamentale anche dopo, nella valutazione cosiddetta a 360 gradi della sostenibilità delle misure, perché individuare delle misure, individuare il costo delle misure, ragionare sulle deroghe e le proroghe, significa attuare anche, non garantire solo l'FCR, ma sul costo dei poveri, significa anche rispettare il polluter pay principio e lo user pay principio, che sono gli altri due, il primo è già evocato da molti anni in questo Paese, ma lo user pay trova il proprio, a chiare lettere, formalizzato nella nuova guidance, che ora verrà comunicato ufficialmente, dopo i direttori dell'acqua l'avranno approvata, diceva stamattina il direttore Pernice a maggio, ecco, in quella guidance troverete formalizzato che non basta l'FCR, se non c'è l'attuazione dello user pay principal, quindi capire la percentuale relativa ai vari settori, diciamo, di carico, relativa di carico tra i vari settori di impiego dell'acqua, per stimare un gap, al nostro modo di vedere, è fondamentale, abbiamo cercato di farlo. Questo è un esempio molto pratico di quello che dicevo in teoria, senza vedere molti dettagli, noi sulla base di questo ragionamento abbiamo computato, ad esempio nel sottopascino del Bisenzi, dell'Arno, 39.000 bisanti equivalenti, quindi c'è un valore assoluto, c'è una stima del gap in termini relativi, lo vedete, 38% e c'è una stima del gap in termini anche in valori assoluti. Se l'avessimo sostanzialmente fatta anche in un altro modo sarebbero venute cifre completamente diverse, tanto ad esempio ho messo, anche se appunto sembra che si parli in realtà solo del chimico, ma non è così, il risultato che invece raggiungevamo se avessimo fatto una valutazione unica sulla base della letteratura scientifica e della cosiddetta approccio un po' storico, rispetto alla valutazione del gap, quindi sulla base e non invece di un'analisi come quella che ho cercato di evidenziare prima. Ma se si fa una valutazione sulla base, come dire, una valutazione del gap con le misure programmate, perché di questo stiamo parlando, quindi ad oggi fotografie esistenti dello Stato deve prendere in considerazione quali sono le misure ongoing, quindi quelle che sono in attuazione anche se non ancora completate e quelle che sono finanziate, quindi programmate e finanziate anche se ancora devono partire, occorre avere tutta una serie di informazioni sulla tempistica, fino al lavoro 2021-2027, occorre avere delle informazioni sui costi, con la specifica delle conti di finanziamento, occorre avere una pianificazione di riferimento a cui imputare queste misure, quindi sono tutti dati da conoscere e soprattutto, elemento molto delicato, occorre avere, lo diceva anche prima Sidiocart, la prima cosa da fare però è una valutazione dell'efficacia delle misure, cioè un giudizio sulla potenzialità che quella misura in campo ha effettivamente per poter porre rimedio a quel danno ambientale, lo parafraso, quindi non in senso tecnico, non in senso economico, ma unicamente quindi da quel danno a cui io devo fare fronte e che con quella misura, a cui con quella misura voglio porre rimedio. Come faccio a dire che quella misura è effettivamente quella idonea? Ma lo devo fare, è questa la pianificazione, quella famosa valutazione, non che è esposta per vederlo dopo e scoprire che il 25% era costato, ma farlo prima è questo il lavoro del pianificatore, ecco qui ovviamente come dire una potenzialità, certamente ci viene in soccorso il fatto di rapportarla all'unità di misura comune, ho citato prima gli abitanti più valenti, quindi vediamo quanti abitanti più valenti mi vanno a posto con questa misura, ovviamente avrò alle spalle, dovrò avere una solida base di riferimenti di letteratura, quindi CNR, IRSA eccetera, ma dico anche, non è opportuno avere, e qui non guardo Marina, ma la evoco, un punto fermo, alcuni punti fermi, come prima diceva la professoressa Rizzini a livello nazionale, che mi consentano un margine, una sorta di bonus, di errore, che a livello locale ognuno di noi pianificatore si assume come responsabilità facendo la scelta ma stando dentro dei parametri, perché così è una scelta completamente al buio e quando prima io ho parlato e te ovviamente non sei citato, hai approccio bottom up, volevo dire un approccio che per ora è stato bottom up per necessità, ma ci parebbe piacere un approccio continuasse bottom up, nonostante il grande supporto dell'amministrazione, anche grazie al supporto dell'amministrazione su alcuni punti fermi, perché oggettivamente ora al di là poi dell'ironia è prendersi la responsabilità di pesare, di attribuire una potenzialità di dire con questa misura, sì 2021 non ho bisogno di ulteriore proroga, non ho bisogno di ulteriore proroga, assumersi una responsabilità non banale, ma che noi dovremmo fare tra i cinque mesi. Allora qui un esempio appunto di quello che dicevo prima delle selezioni, quando si va alla selezione delle misure, il gap con le misure programmate, ho preso un esempio che è tra l'altro comune, condiviso con l'autorità d'ambito toscana, perché abbiamo incrociato tutta la banca dati, quindi ce l'abbiamo, ci concentriamo moltissimo sulla decorazione e per connessione acquodottistiche, sulle misure quindi strutturali, ma anche sulle green, le misure green, le misure green infrastructure, perché abbiamo una serie di interventi, realmente che vanno, lo vedete appunto in verde, idromorfologiche, che vanno effettivamente a risolvervi un problema di qualità, agendo anche, come dire, su un fattore quantitativo e ponendo rimedio, tra virgolette, ovviamente anche a quell'aspetto che noi valorizziamo al massimo, come dire, dove è possibile. E misura non strutturale, che però usiamo moltissimo sulla parte della regolazione dei prelievi, quindi una misura non strutturale che nel nostro bacino, nel nostro territorio, è una misura molto delicata, poi lo farò vedere, spero di avere tempo, nell'ultima slide, perché abbiamo una serie di storica, di eventi critici, di siccità e invece il contrario, quindi di alluvione siccità e periodi che abbiamo studiato approfonditamente, cercando di proiettare anche questi cambiamenti climatici vissuti sulla pelle, diciamo, in avanti e vedendo che in realtà, attraverso una regolazione dei prelievi fatte in modo diverso, la misura quantitativa concorre così tanto al raggiungimento dell'obiettivo di qualità, che in alcuni tratti, in alcuni corsi di idrici, corpi idrici, io non ho bisogno di mettere in campo nessun intervento diretto strutturale. Quindi questo, come dire, a corredo e a completamento di quello che dicevamo a setta mani mattina, dove lui ha detto, io farò queste cose, ma posso anche dire che mi rimane lo 0,1%, mi ricordo quanto è efficace rispetto a questo per la... Anche da, come dire, a smentire quanto ha detto la sentenza della Corte europea, che ha detto che le misure quantitative sono marginali o comunque non... Ecco, questa delle misure quantitative, ora, come dire, vado a un altro, però con una parentesi, perché la Corte europea ha detto così, però la quarta valutazione dei piani di gestione, come anche all'interno dell'Eopilot, non solo quello che riguardava il 4-7, quindi sull'aspetto delle concessioni, ma quello che era idroelettriche, ma anche nella quarta valutazione dei PDG e in tutti i documenti linkati, chi se li ha un po' guardati, sono molto lunghi, sono in inglese e tutto quanto, però ora ci sono anche delle versioni in italiano, sull'aspetto, come dire, delle concessioni e della regolazione, invece c'è un'attenzione secondo me molto, come dire, puntuale, diversa rispetto a prima. La quarta valutazione, quando appunto parla del, a parte il metering, quindi la misurazione di tutte le concessioni, ma fa addirittura una stima sostanzialmente delle concessioni che andrebbero riviste, addirittura a prova nel nostro Paese, facendo una valutazione complessiva, questo a 360, ma è un'attività gradi e insiste tantissimo sulla misura di regolazione dei prelievi, sulla differenziazione degli usi, sul cercare di utilizzare il più possibile anche le stesse green, le misure a cavallo, praticamente, per le due direttive, c'è un'attenzione particolare, tant'è che ci sono anche finanziamenti dedicati, tra l'altro, quindi questo dovrebbe anche in qualche modo favorire, laddove possibile, laddove ovviamente scientificamente dimostrato, dove no. Qui l'esempio di quello che dico, noi, attraverso, come dire, queste valutazioni, attraverso questo ragionamento che ho fatto, dal 38% sull'ecologico, c'è un gap rimanente del 10% e un gap colmato dalle misure programmate, cosa nel che, se avessi usato un altro sistema, c'è sempre parallelismo, avrei mantenuto senza una valutazione, un ragionamento, un'attribuzione di quello che ho detto, di alcune riflessioni un pochino più corpose, oltre, come dire, a passaggio dallo Stato a un altro, avrei avuto ugualmente, come dire, una situazione, una fotografia abbastanza statica. Allora, dopo tutto ciò, si arriva però alla domanda, cioè alla definizione delle strategie. Detto tutto ciò, valutato il gap, con le complessità del caso, ma scelta una strada, attraverso la combinazione delle varie metodologie, le più diverse, assumendosi quel margine di errore che, ripeto, andrebbe ancorato da un aiuto nazionale, in qualche modo. La domanda è, a qual delle misure ongoing, le pianificate o le finanziate, quindi quelle ongoing che non sono ancora concluse, quelle però pianificate quindi vuol dire coperte, coperte dal sistema della pianificazione, dal sistema di prezzi. Esiste ancora il gap? E se il gap non esiste più, io ho solo bisogno di una dilazione temporale. Chiedo più tempo, guardate anche qui con un grande, diciamo, come dire, questa è una sorta di leggenda, si apre una parentesi e si chiude, nostra, tutto questo ragionamento andava fatto per il 2015 e noi lo facciamo per il 2021, è evidente, ma questo ce lo siamo detti stamattina, no? C'è una traslazione dal primo al secondo ciclo. Il primo era di prova, questo è quello vero, diciamo. E allora la proroga di buona al 2021, io dico, le misure pianificate sono sufficienti, ho solo bisogno di vedere la loro efficacia, ho bisogno di più tempo perché ancora le ho potute, le valuto come quelle che mi servono, non ne aggiungo altre, quindi faccio una scelta, ma ho bisogno di avere più tempo perché altrimenti, come dire, non vedo, non le sono ancora in fase di realizzazione, sono ancora da terminare, sono nel sistema di pianificazione, ma non sono ancora partite per vari ritardi. Allora, in questo caso, se è così, c'è un costo ambientale, ma è un costo ambientale coperto, è un costo ambientale, attenzione, un full cost recovery, c'è anche un full user pay principal, io questa slide l'ho messa, l'ho messa perché è la prossima frontiera, nemmeno tanto prossima, ma è quello che chiede l'Europa, non basta il full cost recovery, ma siamo sicuri che il costo è coperto, ma anche internalizzato, perché è una cosa, è la copertura del costo che deve essere garantita a carico di tutti i settori di impianto dell'acqua e già qui molti problemi, ma è internalizzato il costo, perché se non c'è la rispondenza al full user pay principal e ancora di più allo user pay principal, volendo che è un affinamento del full user pay, non si può pagare di FCR, no? Questo, come lo si può pagare, parlare sui dati di internalizzazione del costo, perché deve essere coperto, ma deve essere coperto dall'inclusore e quindi internalizzato. Allora, se però tutto ciò avviene, visto che l'ERC, la linea guida del Ministero, una proxie del costo delle misure per raggiungere lo stato buono e questo è stato finalmente codificato, ci siamo, la domanda però può essere no, io ho solo bisogno di una proroga, ma può essere no, avvalle delle misure pianificate, il gap c'è sempre e che cosa faccio se il gap c'è sempre? Che cosa faccio non domani, non a gennaio, faccio ora, che cosa ho fatto e che cosa sto facendo grazie alla consultazione, perché tutto questo si chiude a dicembre e quello che si chiude a dicembre, ma questo per dire quanto sia anche pesante qualche volta mettere giù per iscritto o non mettere alcune cose, però se il gap esiste io devo verificare se posso aggiungere ulteriori misure, quindi la risposta positiva presuppone questo, cioè il gap sussiste e allora io per forza devo valutare la possibilità di aggiungere ulteriori misure, valutando se i benefici che sono ovviamente connessi a questa possibilità ovviamente sono in realtà fattibili poi anche oppure non sono fattibili, perché se in quel caso ovviamente avrò un costo ambientale esterno e lo vedremo. La selezione delle misure aggiuntive, questo lo voglio dire anche questa, che è sulla base della stima del gap e della conoscenza delle determinanti, il famoso sistema SIR che è codificato dall'Agenzia Europea sull'Ambiente, determinanti, pressioni, impatti, quindi quella è fondamentale. Si individuano ovviamente i settori di intervento che devono essere accesi per poi individuare le misure, qui è accesa l'agricoltura, inutile vada a intervenire, a potenziare o aggiungere un intervento sulla depurazione sul civile, probabilmente non serva a niente. Sulla base ovviamente della stima del gap e della conoscenza dei determinanti non contrastati dalle misure programmate, si individuano i settori di intervento per le misure, si scelgono ovviamente le città che è un measure, sono l'elenco, come dire, ovunque lasciamo fare, che è codificata all'interno della guidance, con informazioni correlate al diverso livello di complessità, c'è uno stepwise thinking, l'Europa ragiona stesso così, perché occorre individuare che cosa fare, quindi un'indicazione qualitativa, ma anche occorre, per poter individuarlo, una stima dell'ordine di ingrandezza degli interventi necessari. Io so che devo fare un intervento sul civile, sì, depurazione oppure collettiva, settore, ma di che tipo lo devo fare? Per quanto ordine di abitanti invalenti? Perché non è, come dire, di default, perché probabilmente vi concorrono a molto una serie di interventi che se sono messi a sistema e gravano su quel corpo idrico, in realtà già mi apportano un beneficio, quindi c'è una valutazione che è un po' più complessa. E' importante ovviamente avere anche la stima e il dettaglio della magnitudo dell'intervento per poter quantificare il carico equivalente è contrastato, possibilmente sempre con la stessa unità di misura, cioè in abitanti equivalenti depurati e ovviamente con una stima del costo delle misure, per cui cosa fare, con quale priorità, ma anche con quali costi. E questo è un esempio applicativo di quello che abbiamo fatto, dove abbiamo messo in campo delle misure aggiuntive, senza stare a entrare nel dettaglio, credo renda abbastanza quando vedete le torte, come dire, sulla destra, partendo da un 38%, con le misure programmate rimaneva un gap del 10%, mettendo in funzione le misure aggiuntive che noi abbiamo valutate in questo caso, dopo tutti i ragionamenti da fare, quindi da fare, assumendoci quindi la responsabilità di dire si aggiunge questa misura, perché è una misura che dopo questa valutazione è fondamentale, è una misura efficace, efficiente e sostenibile, perché per la definizione delle misure, quindi per la valutazione, solamente attraverso la stima del costo delle misure io posso fare una valutazione dell'efficacia, cioè quali sono fra le varie misure che contrastano i determinanti più impattanti e quali sono soprattutto le più affidabili per colmare il gap, ma anche dell'efficienza, quali sono quelle che minimizzano i costi, minimizzano i tempi e contestualmente se dispongo di una stima dei benefici, e questo è fondamentale, disporre della stima dei benefici, ecco perché chiedevo un ancoraggio sostanzialmente anche nazionale, in alcuni casi, perché a livello di paesi europei ci sono delle metodologie nazionali su questo, sulla cost benefit analysis, ovviamente le misure aggiuntive, mi devo chiedere, possono essere messe in atto in tempi compatibili con l'escalente della direttiva? E ancora, ma esistono pianificazioni in cui le misure possono essere finanziate? Perché altrimenti non la posso scegliere, altrimenti la valutazione della sostenibilità è questo, è una scelta di sostenibilità, da un punto di vista economico, finanziario, sociale, ambientale, eccetera, eccetera, tutte queste belle parole cadono in questo piccolissimo quadratino qui, questi ragionamenti, scartando, aggiungendo, magari chiudendo un occhio e facendo una scelta che è anche una scelta politica con la P maiuscola, perché il decisore politico, il pianificatore, quello che sarà non più nell'emore, ad assumersi la responsabilità di fare una scelta definitiva. Ed ecco perché se a valle delle misure aggiuntive sussiste ancora il gap e io devo decidere di ricorrere a una proroga ulteriore oppure a una deroga, metto in campo anche una scelta politica, passatemi il termine, nel vero e nobile senso della parola, perché scegliere se spingere l'intervento ancora e investire e portare lo Stato buono al 2027, io lo posso sempre fare, è un'ipotesi di scuola, io posso decidere di spingere con l'intervento di aggiungerne altre, fino a che quel determinato corpo idrico non mi raggiunge la qualità buona, non me lo impedisce nessuno, cioè ad ogni costo lo Stato buono è astrettamente possibile, quindi perché devo andare in deroga? Posso andare tutti in proroga, basta avere tanti soldi, si può fare tutto, ma siccome si sta facendo ragionamenti, come dire, non di scuola, perché poi queste cose vanno formalizzate, scritte e possibilmente difese anche, visto che sono anche condizionalità exante, chiusa parentesi, per i fondi che dovrebbero arrivarci, è evidente che la scelta di una proroga ulteriore al 2027 oppure di un ricorso all'obiettivo meno stringente è una grossissima responsabilità ed è una scelta da fare adesso, ieri, anzi adesso e fra qualche giorno, faccio per dire da qui al, perché soltanto dove io riesco a dimostrare, richiamandosi alle raccomandazioni della Commissione, le esenzioni, la deroga e la proroga non può essere giù buttata lì e scritta, deve essere ovviamente motivata dall'analisi economica, occorre quindi analizzare se quel beneficio atteso dall'implementazione della misura è pari o superiore al beneficio perduto che potrebbe derivare, cioè deve tenere conto del beneficio perduto in termini di valore monetario, a tal punto che soltanto se esiste un equilibrio incerto o negativo tra benefici attesi e benefici perduti dall'implementazione della misura e questo delta non è sostenibile, io posso ricorrere alla deroga, quindi obiettivo meno stringente perché lo reputo non affoldevo, buttando lì un altro concetto su cui c'è un mondo. E allora abbiamo provato, come dire, ad aiutare, aiutarci per adesso con alcuni punti fermi che ci siamo dati per la scelta della proroga della deroga, fermo restando con la scelta di valutandone tante, abbiamo detto, beh, quando c'è bisogno di spingere e chiedere un'ulteriore dilazione temporale, quali sono i fattori oggettivi che possono supportare questa scelta, fermo restando l'analisi, sostenibilità, eccetera, eccetera, e agglomerate in infrazione, o una serie di agglomerate in infrazione chiede l'obiettivo meno stringente, mi sembrerebbe una contraddizione in termini, poi ma se che spendo un sacco di soldi solo meno abitanti equivalenti, giustamente sarà arrivata anche l'inflazione ora, come dire, presenza di aree protette per cui la qualità delle acque risulta di particolare impatto e da cui ho un approvvigionamento, posso chiedere un obiettivo meno stringente lì, meglio una proroga, presenza di usi idrici che richiedono alti standard di qualità e quantità, sono alcuni delle motivi, secondo noi, ancorati obiettivi in cui si può cadere in piedi e provare, come dire, a sostenere una proroga, un exemption fino a una direzione temporale a 2017, ce ne sono altre che invece, come dire, possono aiutare a giustificare di forza l'obiettivo meno stringente, parto dal corpo idrico fortemente modificato e dal canale artificiale, che del resto anche la direttiva dice può essere o no, in qualche modo motivandolo sempre e comunque, e la presenza di attività produttive di particolare rilevanza o un distretto particolarmente importante dal punto di vista socio-economico, ho prima parlato di analisi di sostenibilità a 360 gradi, posso tranquillamente decidere che nella pesatura dei benefici e dei costi, ovviamente sulla base anche di dati oggettivi, non sulla base del sentimento, dell'emozione, ma che in quel determinato territorio sia preferibile andare obiettivo meno stringente, mantenendo però una determinata attività che in termini di lavoro ad esempio, come dire, mi porta una valenza, un valore sociale a cui io non posso rinunciare. Questo significa fare una pesatura e scegliere, come dire, una cosa piuttosto che un'altra. Chiudo dicendo che un'altra ipotesi, come dire, di ricorso all'exemptions che ad esempio trova molto un caso, come dire, nel nostro territorio e che noi useremo ovviamente corredata da tutta una base di dati, di serie storiche, di scenari di cambiamento climatico che abbiamo elaborato e che abbiamo inserito come capitoli importanti nel piano di gestione, sono il verificarsi di condizioni estreme e quindi gli eventi estremi si cita a piene negli ultimi sei anni. Attenzione perché la direttiva qui non vuole una individuazione di questo ricorso al 4.6, cioè a questa exemption ex post, lo vorrebbe ex ante, ma lo vuole ex ante se si è in grado di dare una proiezione avvalorata da una serie di dati storici. Siccome noi in una parte del nostro territorio li abbiamo, siamo in grado sostanzialmente di fare questa proiezione, quindi indicatori quantitativi e relative soglia di sopra delle quali è secondo noi giustificato e ricorrerà al 4.6 e questo va di default come quanto una regolazione dei prelievi può mitigare i rischi di carenza idrica. Per noi, in alcune porzioni di territorio, in particolare nel bacino dell'Armo, abbiamo a disposizione molti dati, ci sono tante ipotesi di costo della risorsa. Ci sono ipotesi nel quale a fronte di quel costo, come dire, nominato e individuato, codificato nel costo della risorsa secondo le linee guida, io posso far fronte e porre rimedio attraverso, come dire, non un'elargizione tra virgolette, magari con un'individuazione di un canone che sia realmente tarato sulla base di quel prelievo, magari attraverso un bilanciamento fra canone uso civile e industriale, magari attraverso anche un incremento, lo voglio dire un grande chiaretta, è stato detto stamattina, tutti si preoccupano tanto delle cariffe giustamente, preoccupiamoci anche un po' dei canoni che sono comunque di derivazione, forse una leva importante nelle mani delle regioni, ma questo è un caso per quanto ci riguarda, come dire, di una politica di quello water pricing e di meccanismi di incentive pricing che secondo noi, come dire, rispetta non solo formalmente ma anche sostanzialmente lo spirito della direttiva. Ho finito, ringrazio, voglio ringraziare Marina, non l'ho fatta all'inizio perché non c'è richiestata un po' il motore di questo gruppo e credo che se siamo qui, e l'ho detto prima, senza piageria, è un primo step, per me ce ne sono molti altri da fare, però intanto sto primo step l'abbiamo fatto, secondo me, grazie soprattutto a chi trainato con fatica, chi ha trainato fino ad oggi.